Musica Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense, diversi temi che tratteremo nel nostro tv giornale a partire dalla polemica proprio interna al Partito Democratico sull'affermazione della sindaca di Codigoro, appunto di RAPD rispetto a voler applicare la tassazione più alta ai privati che decidono di ospitare i migranti. Poi parleremo anche di caldo, naturalmente dei prezzi della frutta che mettono in ginocchio in realtà le produzioni in campagna. Parleremo della domenica gratuita ai musei, questa iniziativa del Mibact che di mese in mese raccoglie sempre più adesione. Andremo a scoprire quali sono i musei aperti in città e in provincia. Parleremo della spalla, la spalla che ha presentato proprio le nuove maglie in vista dell'amichevole contro il Chievo di domani all'interno proprio del nuovo Mazza. Però non potevamo non aprire con un aggiornamento rispetto alla strage avvenuta in centro ieri a Ferrara perché stanno emergendo nuovi particolari sulla tragedia appunto che ha sconvolto ieri la città. Il dramma del duplice omicidio, suicidio di Galeazzo Bartolucci e della sua famiglia che sarebbe maturato dopo anni di difficoltà economiche. Secondo gli investigatori il figlio Giovanni però stava guardando avanti. La famiglia infatti dopo lo sfratto sarebbe andata a vivere in affitto in un'abitazione in via Bologna. Vediamo. Un fulmine a ciel sereno giovedì 3 agosto, il giorno prima dello sfratto, un episodio che potrebbe aver scartenato il dramma. Il pignoramento dei beni contenuti nel negozio d'antiquariato di Galeazzo Bartolucci, oggetti che sono stati la sua vita negli ultimi vent'anni. L'uomo di 77 anni che poi venerdì mattina dopo le 5 avrebbe sparato e ucciso nel sonno e probabilmente con colpi letali alla testa la moglie Mariella Mangolini di 73 anni e il figlio Giovanni Bartolucci di 48 per poi appiccare un incendio al piano terra dello stabile e farla finita in strada poco distante. L'antiquario forse non si aspettava questo procedimento legato al mancato pagamento di debiti precedenti. Dello sfratto dalla casa invece Galeazzo ne era conoscenza. I parenti sono stati sentiti tutti, tutti hanno riferito che avevano un buon rapporto con lui, che mai aveva dato segni di poter fare un'azione del genere e ci risulta che sia una persona mite e stimata nonché conosciuta in città da molto tempo. Secondo il dirigente della Polizia di Stato Andrea Crucianelli, Bartolucci non aveva problemi di salute o psichici, anzi Galeazzo e la sua famiglia si sarebbero dimostrati sempre sereni e collaborativi con gli operatori e gli ufficiali giudiziari. Come il 5 luglio scorso, quando venne fatto l'inventario dei beni all'interno della loro casa e venne stabilita la modalità di uscita dall'immobile. Oggetti immobilio che, come hanno riferito dalla Polizia di Stato, sarebbero finiti nei depositi pubblici un accordo per aiutare la famiglia nel trasloco. Il pignoramento dello stabile e delle relative pertinenze da parte del Tribunale di Ferrara partì dal 2011 e la vendita all'asta si è conclusa ad aprile scorso con il passaggio di proprietà a due nuovi intestatari. Ma lo sfratto, che sarebbe stato eseguito venerdì, poche ore dopo il duplice omicidio-suicidio, forse sarebbe stato prorogato. Questo secondo Crucianelli, il quale ha raccontato che il figlio Giovanni aveva chiesto al proprio avvocato qualche settimana, oltre la data ufficiale dello sfratto dalla casa, per lasciare l'abitazione. La famiglia dell'Antiquario, infatti, dal primo ottobre prossimo, sarebbe andata ad abitare in affitto in un appartamento in via Bologna e sembrerebbe che fino ad allora nessuno si sarebbe opposto alla dilazione della loro permanenza, fino a fine settembre, in via Boccaleone. Come ha poi ricordato Chiara Sapigni, assessore ai servizi sociali del comune di Ferrara, la famiglia Bartolucci non si è mai rivolta all'ufficio abitazioni per richiedere un'eventuale assistenza e non risultano contatti negli ultimi anni con l'Asp per problematiche sociali. Probabilmente Galeazzo Bartolucci, nella notte tra giovedì e venerdì, non avrebbe retto e avrebbe messo in atto il suo piano con una Smith & Wesson 5 colpi a tamburo. La pistola non era regolarmente denunciata e non era legalmente detenuta dall'Antiquario. probabilmente può essere un regalo, che l'abbia avuta in regalo dal defunto padre che lui non l'abbia denunciata. È attesa per la prossima settimana l'autopsia sui tre corpi. Ancora non è ufficiale il numero dei colpi sparati dall'Antiquario che alle 5.45 di venerdì mattina decise di farla finita sotto i portici di via Bocca Canale di Santo Stefano dove il corpo venne notato da una passante un'ora e mezza dopo il gesto estremo. Grande sgomento in città per la scomparsa di questa famiglia come il figlio dell'Antiquario Giovanni, grande appassionato di cinema e impegnato nel Ferrara Film Festival. Il direttore Maximilian Lowe ha affidato il suo ricordo a un post pubblicato su Facebook. E poi, come ha riportato la versione online della Stampa di Torino, la settima edizione della rassegna cinematografica Dario Argento Tour Locations Torino in programma nel capoluogo piemontese domenica 3 settembre prossimo sarà dedicata al 48enne deceduto venerdì. Cambiamo decisamente argomento. Tasse più alte a chi ospita i profughi. È la provocazione del sindaco di Codigoro che lunedì farà comunque partire i primi controlli sulle abitazioni private al cui interno vivono appunto i migranti. Agenti di Polizia Municipale, tecnici dell'Ufficio Comunale e Personale dell'Azienda USL partiranno dal lunedì 7 agosto a Codigoro i controlli nelle abitazioni dei privati che ospitano migranti. La decisione presa dal primo cittadino Alice Zanardi è comunicata sulla pagina Facebook del Comune di Codigoro. Dunque io ho preso questa decisione e mi sono arrabbiata quando il numero ha superato il numero ovviamente che aspetta per ogni comune che è il 2,5 per 1.000 abitanti. Ho saputo che eravamo a quota 58 profughi ho saputo che avevano messo a disposizione l'ennesima struttura privata che poteva ospitare 40 migranti e ho chiesto un appuntamento dal prefetto per chiedergli di non mandarli a Codigoro perché c'era una situazione che era già grave e di disagio da parte dei miei cittadini. Il prefetto in pratica mi ha risposto che vista l'emergenza loro li mandano dove mettono a disposizione strutture e di conseguenza io a questo punto mi sono attivata. È arrivata la sua nota ufficiale l'ho letta durante l'ultimo Consiglio Comunale del 31 luglio dove ho detto che il nostro comune aveva già fatto la sua parte e a questo punto io avrei mandato i controlli che mi competono per quanto riguarda dal punto di vista urbanistico, isenico, sanitario ai proprietari delle strutture che li ospitano. I migranti, per la maggior parte uomini, sono ospitati in strutture private, case famiglie e appartamenti messi a disposizione dai privati. Non so che tipo di contratti facciano con la cooperativa in questione evidentemente avranno i loro vantaggi, non ho la più palida idea sinceramente. A Codigoro non si registrano gravi situazioni sociali o di degrado ma la convivenza a volte è difficile. Ci sono stati degli episodi di malcostume e qualche intervento anche dai carabinieri in una delle strutture in questione. I controlli che inizieranno lunedì mattina partiranno dalle verifiche sull'abitabilità, la capienza e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Farò i controlli che ho previsto e poi vediamo. Eventualmente da questi controlli se ne esce o ne emerge qualcosa che non va vedo eventualmente posso anche fare un'ordinanza di sgombero. Ma il sindaco di Codigoro sta anche valutando la possibilità di alzare le tasse per i privati che ospitano i migranti. Ho fatto questa nota provocatoria dove si parla della tassazione perché effettivamente io non so se posso applicare una tassazione diversa per chi ospita i profughi, però ho scritto che farò le eventuali verifiche. Quello che mi preme sottolineare è che io sto facendo il sindaco nel senso che sono il sindaco di un paese, di Codigoro e di una comunità che ha lamentato un disagio e come tale non posso non tenerne conto. Il grido di allarme dei sindaci, soprattutto di chi si è messo subito a disposizione per collaborare va ascoltato, ammette il segretario regionale del Partito Democratico e il ferrerese Paolo Calvano. Detto questo, continua Calvano, la proposta della sindaca di Codigoro non è all'altezza dei problemi stessi, non solo perché è impraticabile ed irrealizzabile ma perché è una risposta inefficace che rischia di scatenare ancora più tensioni a livello locale. L'impegno del PD è di trovare soluzioni efficaci, conclude Paolo Calvano, che si appella ai prefetti affinché si attivino perché ogni comune faccia la propria parte e non scarichi i propri egoismi su comuni che invece si sono presi in carico e l'accoglienza dei migranti, ha concluso il segretario regionale del Partito Democratico. Cambiamo argomento, il caldo record di questi giorni, oltre a colpire con siccità diversi problemi per le categorie rischio e disagi per tutti, si stravolge anche le abitudini alimentari degli italiani, quindi anche dei ferraresi da domani pomeriggio, però le cose potrebbero già un po' cambiare. A Ferrara, città italiana dove il caldo e l'affa sono più intense, il tanto atteso calo delle temperature che da una settimana registrano punte record potrebbe arrivare già da domenica. Secondo le previsioni meteo dell'aeronautica militare, domenica, a metà pomeriggio, una perturbazione potrebbe arrivare sul territorio ferrarese. Le temperature, anche lunedì, dovrebbero calare di una decina di gradi rispetto alla media della settimana appena trascorsa. E proprio in questi giorni di caldo record dell'estate 2017, Coldiretti nota un cambio dei consumi. Nel carrello degli italiani e dei ferraresi si registrerebbe un aumento del 3% del consumo di prodotti ortofrutticoli e più 17% dell'acquisto di acqua. L'incremento più significativo, però, riguarda i gelati, con quasi un più 20%. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione della diffusione da parte dell'Istat dei dati sull'andamento dell'economia e del commercio. L'anomalia climatica, sostiene la Coldiretti, ha influenzato comportamenti e consumi di bibite e di frutta che hanno fatto registrare nel 2017 il record degli acquisti degli ultimi 17 anni. Per Coldiretti quest'anno la frutta, che si è salvata da nubi fragi e siccità, è molto dolce per le condizioni climatiche che hanno garantito un elevato grado zuccherino e di sostanze antiossidanti. Nelle campagne, però, conclude la Coldiretti, si soffre per i prezzi in calo fino al 40% che non coprono i costi di produzione per l'effetto delle distorsioni del mercato. Un dramma per gli agricoltori che toccherebbe da vicino anche il territorio ferrarese con prezzi a picco per cocomeri e meloni. Sui prezzi di cocomeri e meloni, pesche e nettarine, è intervenuta anche Cia Agricoltura Ferrara che dice che solo l'aggregazione tra produttori, che consente quindi di creare dei marchi identificativi, può rendere più forte e competitivo il comparto e quindi alcune produzioni frutticole. Vediamo. Il mercato richiede prodotti di altissima qualità, l'Europa chiede sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e certificazioni etiche, il consumatore vuole frutta buona e bella a un prezzo giusto, gli agricoltori sono sommersi di richieste, per la maggior parte condivisibili, ma rimangono l'anello debole delle filiere, spesso incapaci di coprire i costi di produzione e avere un reddito. E' questo l'ammaro commento di Stefano Calderoni, presidente provinciale di CEA Ferrara, sulla situazione dei prezzi della frutta estiva che sta mettendo in grande difficoltà i produttori ferraresi. Un quadro preoccupante che riguarda le più importanti produzioni frutticole del territorio, a partire dal melone, per il quale la campagna di raccolta e commercializzazione era partita bene, con ottima qualità e prezzi soddisfacenti, spiega Cia. Poi le quotazioni hanno iniziato a scendere, ma nel momento in cui la concentrazione di prodotto è alta, il melone viene pagato pochi centesimi al chilo, spiega Calderoni. Sta andando ancora peggio per il cocomero, che non ha mai raggiunto buone quotazioni e che viene svenduto tanto che alcuni produttori agricoli hanno rinunciato a raccoglierlo. Il mercato di pesca e nettarine è in crisi da diversi anni e anche nel 2017 la situazione è invariata. Per risolvere la crisi servono nuove strategie, spiega Calderoni. Stiamo raccontando una situazione già vista troppe volte, continua il presidente Cia. Contingenze climatiche e produttive provocano la concentrazione dei prezzi non distribuita equamente sull'intera filiera, ma subita totalmente dalla produzione. Per risolvere la situazione si dovrebbe fare quello che si sta facendo per la pera, grazie alla creazione dell'organizzazione interprofessionale e l'aggregazione tra produttori che ha consentito di creare dei marchi identificativi, il settore è di fatto più forte e competitivo. Certo, siamo all'inizio, continua Calderoni, ma la strategia è quella giusta perché solo se il valore aggiunto è distribuito su tutta la filiera potremo ancora parlare di frutticoltura italiana di qualità. Ha concluso il presidente Cia Agricoltura, Ferrara. Cambiamo ancora argomento. Ferrara al centro dell'Europa in materia di rigenerazione urbana e social housing. Questo è l'obiettivo del progetto Rigenera City che sarà presentato a Ferrara il prossimo settembre in occasione di Remtec Expo 2017-2022, manifestazione internazionale dedicata ai temi della gestione e della tutela del territorio. Il progetto è stato siglato dall'accordo di cooperazione tra Ferrara Fiere e Acer, l'azienda Casa Emilia Romagna Rigenera City. Sarà un importante momento di riflessione in cui sarà affiancato un nuovo comitato tecnico e scientifico allo scopo di individuare e sviluppare momenti di confronto su scala internazionale e favorire il dialogo tra le parti e il mercato globale. Cambiamo ancora argomento e parliamo di cultura perché domani 6 agosto è di nuovo domenica al museo, la prima domenica del mese con ingresso gratuito ai musei statali, gallerie civiche, siti archeologici. Allora vediamo quali sono i luoghi che si potranno visitare a Ferrara in provincia. Musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia aperti gratuitamente a cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. Stiamo parlando di domenica al museo, l'iniziativa del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che conta l'adesione di oltre 430 location. A Ferrara e nella provincia estense sono 6 luoghi che aderiscono all'iniziativa a partire dal Museo archeologico di Ferrara dove oltre al classico percorso della vita, nei riti e nelle credenze degli etruschi di Spina verrà proposta a visitatori e turisti la scultura e installazione di Leitan Halbert allestita nella loggetta di Ponente nella Sala degli Stucchi. A Palazzo Ludovico il Moro si potrà visitare anche la mostra Focus di Spina e della Musica Perduta che guida i visitatori nella lontana e affascinante dimensione della musica antica. Gratuita anche la visita nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara ospitata al Piano Nobile di Palazzo dei Diamanti con il magnifico Salone d'Onore e l'appartamento cinquecentesco di Virginia De Medici che offre una significativa rassegna della pittura a Ferrara dal 2 al 700. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 ingresso gratuito anche al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Via Piangipane. Ad attendere il pubblico al MEIS è l'allestimento lo spazio delle domande che tra sale interne e giardino racconta l'ebraismo attraverso i video ritratti di sette ebrei ferraresi, gli oggetti sacri, le immagini e le musiche del matrimonio, la ricostruzione di un tipico quartiere ebraico e la scoperta di alcuni principi fondamentali dell'alimentazione ebraica. Sempre in città, porte aperte anche a Casa Romei con le sale al primo piano ornate da decorazioni grottesche e con il Salone d'Onore che reca gli emblemi di Polito II d'Este quando la casa faceva parte del complesso conventuale del Corpus Domini. In provincia si potranno visitare gratuitamente sulla Romea, l'Abbazia di Pomposa, sorta verso il VII secolo con il Museo di reperti e preziosi oggetti d'arte, mentre a Voghiere e Voghenze il Museo del Beriguardo è l'area archeologica che include una necropoli monumentale di età imperiale, primo-terzo secolo d.C., con due recinti funerari, un sarcofago e alcune iscrizioni. Andiamo a Voghiera in occasione della ventesima edizione della Fiera dell'Aglio di Voghiera DOP che si tiene appunto negli spazi della delizia del bel riguardo proprio durante questo weekend. tante le iniziative e le novità in occasione del primo ventennale della Fiera e a dieci anni dall'attribuzione del riconoscimento DOP. Per tutta la durata della Fiera presenti uno stand gastronomico per assaporare le prelibatezze del territorio, le bancarelle dei produttori del consorzio, un mercatino gastronomico e anche un'area giochi per bambini. E si conclude domani a Villa Mensa Copparo la terza edizione della tenda Summer School. Del tenda Summer School. Vediamo allora che cosa sta succedendo proprio durante queste ore in questo servizio. Sesto giorno di tenda Summer School qui a Villa Mensa. Domani i ragazzi ripartiranno per le loro case ma oggi si stanno preparando per lo spettacolo finale di stasera alle ore 9. Andiamo a vedere. Qui alla tenda Summer School ci sono ragazzi da tutto il mondo ma ci sono anche ragazzi che vengono da molto vicino cioè da Copparo come Roberto Galleran che è qui per il terzo anno di seguito. Roberto come stanno andando le prove per lo spettacolo di questa sera? Ok per lo spettacolo di questa sera direi che le prove stanno andando bene insomma comunque è sempre un'occasione per sperimentare e per anche sbagliare ma poi trovare una soluzione quindi non è solamente un modo per fare le cose perfette o per cercare la perfezione ma anche per sperimentare soprattutto per sperimentare. Io come hai detto tu sono un copparese, un copparese doc e è la terza volta che vengo qua in questo luogo che mi è anche abbastanza familiare perché fin da piccolo venivo qua poi insomma mi piace molto questo luogo soprattutto per un'esperienza del genere ed è veramente questa edizione diciamo che forse è la migliore tra le tre. Mi trovo con il sindaco di Copparo, Nicola Rossi che ha ospitato e sponsorizzato questa iniziativa della Tenda Summer School Sindaco come le è sembrata questa edizione? Ma è un'edizione assolutamente positiva non fa saluto per il fatto che negli anni è stato un trend in crescita quest'anno abbiamo ospitato circa 50 ragazzi in tutta Europa addirittura uno statunitense la cosa ci rende felici, ci riempie di orgoglio perché insomma probabilmente abbiamo fatto un investimento importante che è quello nella cultura un investimento nella cultura che va sia nella parte legata alla struttura perché nei prossimi mesi partiranno i lavori di ristrutturazione della villa ci sarà un investimento cospicuo ma soprattutto per il fatto che la villa venga vissuta insomma da contesti come questa, da situazioni come queste insomma che gli danno assolutamente un valore aggiunto. Da Villa Menza è tutto, all'anno prossimo Naturalmente poi faremo un po' il punto e il bilancio di questa interessante iniziativa ora la cronaca, 25 piante di marijuana coltivate in casa questo hanno trovato i carabinieri di Ostellato nella casa di un colf, un collaboratore familiare di 23 anni di Argenta che mentre si trovava a bordo di un'auto con un'altra persona di 21 anni è stato fermato dai militari in auto i militari appunto hanno trovato poco più di 7 grammi di marijuana così è scattata la perquisizione domiciliare il 23enne è stato denunciato per detenzione stupefacenti a fini di spaccio mentre l'altro appunto trovato in auto con lui è stato segnalato alla prefettura di Ferrara come assuntore di sostanze Ora lo sport, lo sport quindi la SPAL il ritorno tanto atteso di Meret la presentazione delle nuove maglie e tante tante emozioni è stato un pomeriggio da ricordare quello di ieri per la SPAL vediamo allora le divise di questa stagione che rivedrà i colori bianco-azzurri a strisce strette ritornare in Serie A dopo 50 anni Abbiamo visto la serie di amichevoli attendiamo il Chievo intanto questa sera abbiamo ammirato le nuove maglie Presidente Sì, abbiamo presentato le nuove maglie che ritengo siano bellissime ma tanto le maglie della SPAL per me sono sempre belle però queste per me in particolare c'è stato uno studio particolare su qualche duna particolari veramente belli e quindi sono stato contento e orgoglioso di averle presentate Diciamoci la verità la classica con tanto di colletto doppio risvolto Sì, per me sono belle tutte e tre poi ripeto quando poi rappresentano i nostri colori io vado matto insomma quest'anno ci ho anche ficchiato il naso insomma tanto sono andato io direttamente in fabbrica Macron insieme a qualche collaboratore abbiamo proprio i dirigenti Macron studiato questa linea che ritengo veramente molto bella la terza poi ve l'ho detto anche nella presentazione che un po' è stata una mia celta la nera con un raffrigurato con il castello Estense insomma rappresenta proprio la città di Ferrara e su una maglia di questo colore dà un risalto particolare insomma sono contento contento spero che piacciono che piaccia tutte e tre che piacciono tutti e tre i nostri tifosi e quindi andiamo avanti Alex a Ferrara siamo tutti contentissimi del tuo ritorno e a te quanto piacere fa restare qui nel castello Estense ma è un grandissimo piacere tornare in questa società che mi ha fatto crescere l'anno scorso mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra per me è una grande emozione essere tornato qua e non vedo l'ora di iniziare spero che sia una stagione positiva e niente sono contentissimo e dal momento che a Udine non avevo spazio la Spal è stata la prima scelta è ancora Spal perché domani appunto si disputerà l'amichevole contro il Chievo la prima partita di questa stagione allo stadio al nuovo stadio Mazza dove appunto i lavori stanno ancora procedendo cresce l'attesa per il debutto al Mazza dei Biancozzurri per gli appassionati oltre che potersi rendere conto del potenziale della squadra in un test con un avversario alla portata l'opportunità anche di lanciare un primo sguardo ai lavori già a buon punto dello stadio che tra poche settimane tornerà dopo 49 anni ad ospitare la Serie A tra i confronti con il Chievo domani e quello con l'Udinese del 27 agosto prossimo seconda giornata di campionato la Spal dovrebbe giocare nel suo stadio anche con la vincente di Empoli Renate nel terzo turno di Coppa Italia si resta in attesa della data ufficiale ma la gara dovrebbe disputarsi sabato 12 agosto anche se esiste una piccola possibilità di posticipo al giorno successivo tornando all'amichevole con il Chievo in programma domenica alle 20.30 semplici se si fa eccezione per il difensore Felipe dovrebbe contare sul gruppo al completo per i tifosi saranno aperti solamente tre settori l'intera curva ovest la tribuna bianca pari e la tribuna bianca dispari Allora chiudiamo qua il nostro tv giornale per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il sito internet la pagina facebook e il nostro canale youtube grazie di essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti